Il dispositivo di controllo del territorio Petrace implementato nella piana di Gioia Tauro ha consentito agli agenti della Polizia di Stato del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Gioia Tauro di arrestare in flagranza di creato due uomini per possesso e spaccio di sostanze stupefacenti. In particolare, in corso di mirate attività di controllo del territorio, i poliziotti hanno tratto in arresto due persone per concorso nel reato di detenzione e trasporto illecito di 50 kg di sostanza stupefacente del tipo Ascici con l'aggravante del incente quantitativo suddivisa in numero di 50 panetti da un chilo ciascuno. L'operazione antidroga si è svolta lungo l'arteria autostradale A2, Salerno-Reggio Calabria-Corsia Sud dove in direzione Rosarno, nel tratto ricadente l'area comunale di Candidoni, una pattuglia del commissariato notava il transito a forte velocità di una autovettura che effettuava manovre repentine. I sospettiti da tale comportamento, gli agenti decidevano di inseguirla e, intercettata l'auto nelle adiescenze dello svincolo autostradale di Rosarno, gli intimavano l'Alt. Identificati gli occupanti, attraverso l'occessiva perquisizione, venivano rivenuti i 50 panetti di sostanza stupefacente occultata nell'abitacolo. L'arresto è stato poi convalidato dall'autorità giudiziaria di Palmi che ha disposto la custodia cautelare in carcere. L'operazione mette in evidenza ancora una volta l'attenzione che gli operatori di Stato in servizio del controllo del territorio calabrese prestano ogni giorno per garantire gli autori di quei reati che minano la pace sociale. Grazie a tutti.